Il medico risponde, diamo il buongiorno al dottore Emanuele Pontali, direttore delle malattie infettive dell'ospedale Galliera di Genova. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti. 800-640-771 per le vostre domande in diretta, 347-6766-291 per le vostre domande via WhatsApp. Pontali, qual è la situazione che ci può aiutare a descrivere con un Covid, con numeri che sono in aumento e anche un'influenza che ha iniziato la sua stagione? Direi che è un bel mix quest'anno che va un po' a complicare le cose, da una parte per i medici curanti, per i medici di base, per riuscire a distinguere tra le due sindrome respiratorie al domicilio e poi complica le cose nei pronto soccorsi e nelle degenze, perché le sintomatologie tendono ad assomigliarsi. Quest'anno vediamo tantissime persone positive al tampone Covid che non hanno il Covid, sono poche quelle con la vera polmonite Covid. Tante però sono le persone in cui questa infezione da virus SARS-CoV-2 crea uno scompenso nelle condizioni di base, per cui vengono ricoverate molto spesso con delle insufficienze respiratorie legate magari a un problema polmonare di base o a uno scompenso cardiaco cronico che viene aggravato, esacerbato, scompensato da questa infezione. E una cosa simile capita con l'influenza. E con l'influenza, avendo maggiori capacità diagnostiche da qualche anno a questa parte, vediamo anche tante polmoniti, anche in giovani, proprio di polmoniti da virus influenzale, soprattutto in chi ha dei fattori di rischio respiratori. E parallelamente a questo c'è da fare un discorso sulla vaccinazione. Una vaccinazione che non è partita proprio, diciamo così, benissimo rispetto anche, insomma, agli altri anni. Già l'anno scorso avevamo visto un calo. Stiamo parlando ovviamente delle categorie per cui il vaccino è raccomandato e così anche in queste settimane. Poi forse adesso c'è stato un aumento. Sappiamo ci sono anche gli open day perché le persone probabilmente si sono rese conto che, insomma, in tanti hanno, diciamo così, il covid oppure, insomma, come diceva lei, sono positivi perché poi, insomma, avere il covid è un'altra cosa. Però, insomma, la vaccinazione, come avevate previsto, non è andata bene. Non sta andando bene. Ma sicuramente. È stata annunciata nei tempi giusti, programmata e poi messa lì da parte. Diciamo che istituzionalmente non è che ci sia stata una grande campagna vaccinale, sia a livello nazionale. A livello regionale se ne è parlata, se ne è parlato, ma è sfuggita dai radar, come si dice. Cioè non ci sono state grandi riprese anche nel campo dell'informazione e della comunicazione sulla vaccinazione. Perché l'abbiamo vissuta come società, è un'altra vaccinazione e, certo, è come la vaccinazione anti-influenzale ci serve. È vero che c'era una platea ridotta rispetto all'anno scorso perché abbiamo continuato ad avere casi anche nel periodo estivo, nel periodo prevaccinale, per cui molte persone hanno avuto già l'infezione naturale quest'anno e rimandano il richiamo. Ma sono tantissimi, tra quelli che vengono ricoverati, quelli che avrebbero dovuto fare la vaccinazione. Alcuni non hanno fatto neanche il richiamo l'anno scorso. Perché tanto, cosa vuoi che mi succeda, ormai basta queste vaccinazioni. Ma purtroppo la risposta del nostro organismo a questa infezione fa sì che ci possano essere degli scompensi delle nostre condizioni di base e questo va a causare in chi è più fragile poi dei problemi che portano al ricovero con tutte le conseguenze correlate. Allora, partiamo con le domande dei telespettatori. Buongiorno, 73 anni, senza particolari problemi di salute. Da sabato ho il Covid, chiedevo se è il caso, chiedendo al mio dottore, di assumere gli antivirali. Grazie Angela. Allora, un discorso a parte meritano questi antivirali orali. Sono delle terapie che vanno assunte, ce n'è un solo tipo al momento disponibile, per 5 giorni, 3 compresse mattino e sera, da chiedere al medico curante che li può prescrivere. e vanno valutati in base al fatto che si sia sintomatici, che non siano passati più di 5 giorni dall'esordio dei sintomi, non dall'apposità del tampone, quello che fa fede è l'esordio dei sintomi e devono essere valutate le interazioni farmacologiche con le terapie che una persona assume. Per questo è molto importante interfacciarsi col proprio medico. È vero che la maggiore importanza ce l'ha per chi ha plurimi problemi di salute, però già anche il fatto stesso, l'età della persona che ha chiamato, va valutata per farla, questa terapia. Però la cosa migliore è col curante perché conosce molto bene tutte le terapie che sono in corso e quelle che eventualmente possono essere sospese per qualche giorno o sostituite. Buongiorno, sono Alberto, 51 anni. Come è possibile che sono positivo dal giorno 3 dicembre, i primi 3 giorni solo raffreddore e poi da 5 giorni 0 sintomi. Come è possibile? Grazie. È possibile, noi sappiamo che ci sono, ormai in questi anni abbiamo imparato che ci sono persone che possono restare positive anche molto a lungo, soprattutto se è la prima volta che prendono l'infezione. Ma attualmente abbiamo in ospedale persone senza grandi problemi di immunodepressione che si portano dietro la positività del tampone da circa un mese. Sono cose che succedono anche se non hanno un'influenza diretta sulla salute delle persone e sono la ragione per cui si sono modificate un po' le regole della quarantena nel tempo perché uno non può rimanere sequestrato a casa per una positiva persistente e asintomatica. Buongiorno, per favore. Oggi pomeriggio mia mamma di 94 anni farà il vaccino Covid. Qualora dovesse contrarlo negli immediati giorni successivi, avrebbe comunque una miglior protezione? Cosa potrebbe accadere a ridosso del vaccino? Grazie. Abbiamo imparato che se ci sia mala di Covid subito a ridosso della vaccinazione il decorso non è particolarmente modificato, non ci sono preoccupazioni aggiuntive. Per quanto riguarda l'effetto protettivo, se si tratta di una dose di richiamo, come suppongo, ci vogliono comunque alcuni giorni perché questa dia un bel impulso al sistema immunitario. Prima di due o tre giorni l'effetto protettivo è quasi nullo. Per cui se è nell'immediato immediato non cambierà nulla ad aver fatto la vaccinazione. Se invece lo dovesse contrarre tra alcuni giorni, avrebbe già un'aumentata risposta immunitaria che la proteggerà di più. Allora, Franco, buongiorno. Buongiorno, dottore, senta. La sta ascoltando, prego. Ah, senta dottore, c'è una figlia che da un mese prende antibiotici e non serve a niente. E' cominciato come un mal di gola, con tosse, raffreddore, febbre a 37 e mezzo, volte 38. Ha preso dell'attacchipirina per tre giorni perché non trovava il medico. Poi, quando è riuscito a trovare il medico di base, gli ha prescritto C-Fotox 100, due volte al giorno per quattro giorni. E' sparita la febbre e gli è venuto un forte mal di denti. Il suo dentista gli ha allora prescritto Neodupomox, antibiotico per cinque giorni, due volte al giorno. Alla fine, ma nessun miglioramento. Allora una sua amica l'ha consigliato di andare da un ottorino, il quale gli ha prescritto Eroflop, Sciloppo e BioRinil e Flaminase. E così, Franco, ma qual è la domanda? Eh, volevo finire un attimo, questo guarisce, ma poi riprende di nuovo la febbre, eccetera, eccetera. E' passato un mese, vorrei sapere, devo portarlo al pronto soccorso o che cosa devo fare. Grazie, Franco. Allora, ricordiamo sempre però che i nostri medici vi possono dare una risposta, un'indicazione generale, perché ovviamente non conoscono voi, non conosce il dottor Pontali, sua figlia e quindi insomma bisogna parlare con il proprio medico. Però sentiamo il dottor Pontali, poi in questa domanda abbiamo già capito anche la difficoltà a volte spesso di trovare il proprio medico di base e uno che cosa fa? Va dal pronto soccorso, lo dico perché insomma già in questa giornata la situazione dopo il Ponte dell'Immacolata è critica nei pronto soccorso, soprattutto dell'area genovese. Sicuramente il pronto soccorso va usato quando ci sia una situazione che interessi le funzioni vitali, cardiache, respiratorie, un trauma importante con i sospetti di frattura, un trauma stradale da caduta o nelle situazioni in cui c'è una certa acuzie. Qui, per esempio, abbiamo una situazione che si protrae, per cui l'accedere al pronto soccorso come risorsa della disperazione, è comprensibile ma inutile. I pronto soccorsi sono costruiti per lavorare sulle patologie acute e gestire l'urgenza. Non sono fatti per la gestione delle patologie croniche, è proprio una questione di organizzazione del servizio sanitario. Su questo è tutto demandato al territorio, che sappiamo che ha le sue difficoltà, però chi fa il regista è il medico di famiglia, il medico di medicina generale, che la può indirizzare a degli specialisti adatti e in quel senso, a seconda del grado di urgenza, può contattare anche il medico di famiglia, direttamente gli specialisti per le visite urgenti, oppure si può accedere con le richieste urgenti, soprattutto per l'attività specialistica. Il pronto soccorso non aiuta. In una situazione del genere uno può ritrovarsi ad aspettare 12-24 ore per essere gestito in modo completo, perché ci sono delle urgenze nettamente maggiori che prevalgono sull'attività rutinaria del pronto soccorso stesso. Buongiorno, sono Graziana, ho 75 anni, nessuna patologia, fatto il Covid la scorsa settimana solo con un raffreddore e un po' di tosse, dopo averlo fatto lo scorso anno, cioè settembre 2022, e dopo aver fatto le prime tre dosi di vaccino. Per quanto tempo posso essere coperta? Cioè, devo fare il richiamo del vaccino? Generalmente, con una storia come la sua di tre vaccinazioni, due Covid passati bene, senza grossi problemi, e in assenza di fattori di rischio, si può considerare di essere tranquilli da complicanze maggiori da Covid per i prossimi 6-12 mesi. Buongiorno, mia mamma anziana di 95 anni, dovrei assentarmi da Genova dal mattino alla sera del giorno successivo all'esecuzione del vaccino anti-Covid. Può, secondo lei, rimanere da sola in casa per un giorno? Cosa consiglia? Grazie. Vi ricordo che il dottor Pontali non conosce, insomma, non vi conosce, eh? Sì, allora, in linea di massima, i rischi maggiori che ci sono con le reazioni da vaccinazione, lo sappiamo, avvengono nell'immediato, nei minuti e nelle ore immediatamente successivi alla vaccinazione, tant'è che è sempre richiesto, seppur breve, un periodo di osservazione nella sede dove avviene la vaccinazione. Dopodiché, quelle che sono le reazioni successive sono in genere quelle caratterizzate dal dolore, dalla cefalea, dalla febbre o dalla sindrome di reazione citochinica, cioè quella sensazione di stanchezza, mollezza, dolori osteoarticolari, eccetera. Queste situazioni vengono in genere, quando si verificano e se si verificano, sono gestite con del paracetamolo o degli altri farmaci antinfiammatori. Per cui, quello è indipendente dall'età, dipende un po' dalle capacità della persona di potersi autogestire. Questo è un giudizio che soltanto i propri cari possono dare. Mia mamma, 84 anni, diabetica, non si può muovere. Come posso fare a farla vaccinare? La Croce mi ha detto che la trasporterebbero in loco, ma deve essere prenotata. È vero, non sta bene, cade, non ha fatto il richiamo e se dovesse andare in ospedale prenderebbe il Covid. Vi ringrazio, Loredana. Sì, per i trasporti in ambulanza è ovvio che si deve prenotare e ci sono due opzioni. Si può prenotare a pagamento oppure si può far fare la richiesta al medico di base per le persone non deambulanti che perciò vengono trasportate a carico del servizio sanitario regionale. E in questo modo si può accedere alla vaccinazione prenotata per il giorno e l'ora prevista. Così come, almeno io lo so per, diciamo, conoscenza personale, il medico di famiglia fa la segnalazione e si può avere vaccino a casa per chi, insomma, non si può muovere per quei casi per cui è impossibile. Almeno io parlo per la ASL 3. Sì, questo è rimasto sin dalla prima ondata di vaccinazione come altra opzione. Ha però dei tempi sicuramente un po' più lunghi perché è più complesso organizzare la vaccinazione domiciliare che non accedere a un luogo dove avvengono tutti i giorni. Allora, buongiorno Tiziana. Può chiedere al dottore a proposito della possibilità di fare il vaccino. In ASL 4 ci sono 6-7 farmacie segnalate da Alisa di cui 5 non disponibili alla prenotazione. Un punto in ospedale a Chiavari con la prima data disponibile a metà gennaio. Come si può fare? Tra l'altro in ASL 4, credo di ricordare, ma vada a memoria, che l'open day sia alla fine del mese. Quindi qui, probabilmente, poi adesso magari facciamo una segnalazione e cerchiamo di verificare questo telespettatore che ci ha scritto perché è evidente che anche questo sia un problema, cioè se le agende sono piene, giusto? Poi è da ovviamente verificare se è così, però insomma questo telespettatore ci fa questa segnalazione. No, giustamente. In questi casi un'altra possibilità per cercare una strada verso la vaccinazione è chiamare i numeri delle ASL per le vaccinazioni perché a volte in base alle richieste vengono anche aggiunte delle sedute vaccinali rispetto a quelle che sono programmate fisse sul sito. Per cui può essere utile se i tempi si allungano fare una segnalazione tramite l'URP dell'ASL di residenza o chiamando il numero del CUP per le prenotazioni vaccinali. Comunque anche noi insomma cercheremo attraverso l'ASL 4 di avere insomma una informazione. Pronto Franco? Pronto, buongiorno. Sento, volevo fare una domanda al dottore. Perché è da ieri che ho la diarrea ho mandato mia moglie in farmacia le hanno dato l'imodium e lo sto prendendo prima ho preso due compresse poi ogni volta che ho una scarica ne prendo un'altra e mi continuo ancora devo prendere forse qualcos'altro perché il mio dottore c'è oggi pomeriggio il mio dottore generico. Ecco, sì, grazie Franco. Una risposta generica che possiamo dare è che questi farmaci da banco sintomatici vanno poi usati con cautela perché l'eccedere con questi farmaci che bloccano la diarrea se a seconda della causa della diarrea possono essere anche controproducenti. Sono dei farmaci sintomatici che non risolvono necessariamente il problema. L'unica cosa che può aggiungere prima di una valutazione medica sono eventualmente dei fermenti lattici però esagerare con questi farmaci può essere anche pericoloso per le conseguenze per cui la cosa importante è anche il proprio medico che la può conoscere e conoscere delle altre problemi di salute che possono essere causa o possono aggravarsi a seconda della diarrea. Mi raccomando lo so che a volte è molto difficile trovare il proprio medico di famiglia ma lui dovrebbe insomma uso il condizionale dottor Pontali essere la persona che vi conosce meglio conosce tutte le vostre patologie conosce le vostre problematiche poi lo so che soprattutto in questo weekend diciamo di ponte insomma se uno sta male è complicato e non sa cosa fare poi come diceva lei insomma dottor Pontali uno magari può avancare pronto soccorso per disperazione cioè dice in fondo io so che lì H24 7 giorni su 7 che sia Natale Santo Stefano l'Immacolata qualcuno insomma mi dice qualcosa ovviamente poi ci sono questi tempi d'attesa che sono molto difficili dilatati per questo allora buongiorno se concomitante al vaccino Covid ci fosse anche la malattia nello stesso momento della vaccinazione a propria insaputa che cosa accade? ma lo accennavamo prima abbiamo dimostrazioni ormai in questi anni di campagne vaccinali in mezzo alla pandemia che non accade nulla non c'è né un andamento della malattia peggiore né un andamento della malattia minore né un eccesso di effetti collaterali da vaccino sostanzialmente è un episodio sfortunato in cui uno si fa una vaccinazione inutilmente senta Pontali in conclusione che cosa ci dobbiamo aspettare insomma per le prossime settimane noi sappiamo che poi con le feste diciamo arriva un po' il picco dell'influenza c'è però tanto Covid che gira soprattutto per insomma le persone più fragili che cosa vi aspettate cosa ci dobbiamo aspettare insomma non mi sembra che sia un'influenza leggerina forse ancora più dell'anno scorso la prima epidemia influenzale post-Covid un pochettino più tosta del passato però valgono le stesse regole noi ci aspettiamo un impatto ovviamente sui servizi sanitari perché poi i casi secondari di Covid anche in ospedale che si manifestano magari non subito all'ingresso in pronto soccorso ma tardivamente fanno delle piccole epidemie creano problemi organizzativi i pronto soccorsi sono già abbastanza intasati sotto le feste lo saranno di più dalla parte di tutti noi la cosa importante è prevenire cioè vaccinarsi assolutamente per entrambe le infezioni respiratorie Covid e influenza cercare di non sottovalutare i sintomi soprattutto se siamo fragili e ricorrere rapidamente al proprio medico di famiglia per vedere se si possono prendere gli antivirali e ricordo questi sono solo per i fragili o per gli anziani e questo dovrebbe ridurre il rischio di accedere al pronto soccorso di avere la necessità di un ricovero e e poi valgono le solite norme che abbiamo imparato cercare di se si stannutisce di coprirsi la bocca di lavarsi le mani frequentemente di ridurre tutto questo magari noi siamo meno fragili di altri ma dobbiamo anche pensare alle persone che sono più fragili di noi soprattutto in famiglia tra i conoscenti o gli amici perché come sempre ci siamo detti in questi anni conta la mia salute la mia protezione però per queste malattie deve contare anche la protezione di tutta la popolazione delle persone più fragili soprattutto perché anche tanti purtroppo non possono fare la vaccinazione per problemi di salute per cui li dobbiamo proteggere in qualche altro modo grazie grazie al dottor Emanuele Pontali direttore delle malattie infettive dell'ospedale Galleria di Genova buona giornata e buon lavoro buona giornata a tutti buona settimana arrivederci